Mister Indiani alla vigilia di questo derby, forse la partita più attesa della stagione. La partita più attesa? 8 giornate alla fine, io credo siano tutte 8. E' chiaro, c'è questo discorso di derby, i tifosi la sentano in maniera particolare, anche noi. Lo scenario bellissimo, sicuramente sarà una partita non da D. Non da D, una partita da categorie superiori e siamo onorati di farne parte da questa posizione di classifica. L'andata fu una partita un po' strana, ci fu quella espulsione, però l'Arezzo forse fece la più bella partita, la più intensa, sfiorò più volte il successo, peccato. Sì, sì, forse l'andata, noi stavamo molto 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 bene, loro direi molto meno. Anche un uomo o meno dalla metà del primo tempo, facevamo una partita straordinaria, meritavamo di vincerla lo stesso. Fini 1-1, ma sì, è vero, forse è stata una delle più belle sicuramente. Inizia spulciando un po' le statistiche, abbiamo scoperto che in campionato contro il Livorno lei non ha mai vinto e che l'ultima volta che l'Arezzo ha vinto all'Ardenza lei aveva una ventina d'anni, più o meno. Insomma, che cosa, che riflessioni le suscitano questi dati? Sfatiamo, sfatiamo queste statistiche. La mia è la statistica, cioè è relativa, perché sono talmente fuori le volte che ci ho giocato contro quella è il Livorno e quella è l'Arezzo. Un po' di più, sarebbe bello sfatarle entrambe. Io che ci vinca la prima volta è l'Arezzo anche dopo tanto tempo. Le chiedo, Ministro, anche se il fatto che la Pianese giochi oggi e che l'Arezzo vada a giocare sapendo già il risultato dell'avversaria può influire sull'atteggiamento della squadra oppure no? Io spero di no, ma sicuramente non va bene. Non va bene perché in ogni caso qualcosa, in entrambi i casi, in caso che la Pianese non faccia il risultato pieno, non me se lo faccia, qualcosa ti rimane in la testa e ti condiziona, dubbiamente. Io spero di no, si cerca di fare tutto di no, però sarebbe meglio giocare sempre tutte alle stesse ore. Le chiedo che il Livorno si aspetta, mister. Ci sarà un ambiente carico, anche perché è la partita più sentita anche da parte livornese. È una squadra che ha difficoltà a trovare continuità di risultati, anche se non perde da sette giornate, però viene da un pareggio interno deludente con il monte spaccato. E quindi, ecco, sull'avversario che cosa ci può dire? Io dirò che hanno valori e sicuramente i valori che hanno domani tireranno fuori tutti, cosa molto probabilmente non li hanno tirati nelle partite di minore importanza. Domani li tireranno tutti fuori i valori che hanno e sono valori importanti. E noi dovremmo essere ancora più bravi del solito perché è una partita, ripeto, bellissima, è uno scenario bello, da categoria superiore. Non mi aspetto, ecco, il Livorno di Montespaccato o di Livorno altre partite. Sicuramente domani avremo un Livorno al massimo delle sue potenzialità. Mi chiedo come sta a Gaddini, una domanda ricorrente in questi sabato mattina che precedono le partite e se può partire dall'inizio, mister. E poi mi chiedo anche se ha scelto il 2004 che giocherà domani, se da questo punto di vista oppure ha ancora qualche dubbio da sciogliere. No, no, certo, abbiamo già scelto tutto. E quanto a Gaddini ha iniziato ad allenarsi da questa settimana, è a disposizione. A parte all'inizio o meno, vediamo, però a disposizione. Visto il contesto, la difficoltà della gara, è un Arezzo che giocherà per aggredirla la partita, per vincerla? O un po' di calcoli? Il mister sta cominciando un po' anche a farli. Vedi, ecco, il discorso della partita precedente della Pianese. Io vorrei non fare punti alco, io vorrei, come sempre, andare là, cercare di fare la partita a noi, di vincerla. Poi, ripeto, il Livorno ha enorme potenzialità e sicuramente cercherà di impedircelo. E non vorrei che in un caso o in un altro il risultato del giorno precedente ci condizioni questo nostro atteggiamento. Io farò di tutto perché non ci condizioni, ma ne sono assolutamente sicuro.